Benvenuti da Scugnizzi, vi abbiamo riservato un bellissimo tavo. I signori festeggiano qualcosa? 50 anni di matrimonio! Accomodatevi! Inizierei con una nostra specialità. Spaghetti con le alici. Con permesso. Posso chiederti una cosa? Certo. Però mi devi promettere di essere sincera, qualsiasi cosa io ti chieda. Non capisco dove vuoi arrivare. Amore, il nostro matrimonio è stato benedetto da sette meravigliosi figli che il cielo ci ha donato. Ma sono anni che ho un dubbio. Un tarno nel cervello che mi fa passare delle notti insonni. Roberto, il nostro settimo figlio, non assomiglia a nessuno degli altri. Né fisicamente né caratterialmente. Dimmi la verità. Roberto ha un padre diverso. Non voglio mentirti. L'ho fatto già per troppi anni. Hai ragione tu. Roberto ha un padre diverso. Beh, penso di avere il diritto di sapere... Chi è il padre di Roberto? Tu! Signor Gargiulo, ci ha fatto prendere un bello spavento. Ma non si preoccupi, andrà tutto bene. Corna facendo. Ancora! Corna facendo. 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 Grazie a tutti